Il nuovo allenatore dei Nerostellati è Francesco Saccoccia. Il tecnico nella scorsa stagione alla conduzione della Juniors Nazionale Pratolana è stato chiamato dalla società del presidente Gianluca Pace per guidare la prima squadra dopo l'esonero di Cristiano Colella. Saccoccia Pratolano Doc, come il suo predecessore, avrà il compito di risollevare il gruppo da una situazione di campionato deludente con i Peligni che dopo quattro sconfitte consecutive sono ultimi in classifica con un solo punto. Per Francesco Saccoccia si tratta della prima volta in eccellenza. In precedenza ha avuto esperienze a Goriano Sicoli in prima categoria. Al suo fianco siederà il tecnico degli allievi regionali Davide Sant'Angelo. L'esordio ci sarà domenica prossima nel match interno contro il Chieti. L'USD Nerostellati 1910 annuncia infine il ritorno del direttore sportivo Roberto Pantaleo. Cambio in panchina anche per l'Ovidiana Sulmona dove finisce l'esperienza di Joachim Spina. Il tecnico toscano è stato esonerato dopo la pesante sconfitta contro il Villa 2015. Al suo posto torna Sergio Lorè. L'impegno di Spina è stato notevole sin dal primo giorno ma la squadra ad alcune settimane non sta più rispondendo in maniera positiva. Serve dunque una sterzata al gruppo per cercare di risalire la china e puntare alla salvezza. Il compito spetta a Lorè che conosce benissimo l'ambiente sulmonese per esserci stato sia come allenatore che come calciatore. Nel febbraio scorso fu chiamato alla guida del Sulmona al posto di Candido di Felice ma non riuscì a centrare i playoff. Le strade ora si ricongiungono con Sergio Lorè che rispetto all'ultima stagione avrà più tempo per lavorare e per raggiungere gli obiettivi. Il nuovo tecnico dell'Ovidiano a Sulmona esorbirà domenica nella gara casalinga contro il Sant'Anna.